No ragazzi volevo fare una stories adesso, stories della stories, fantastico, la matri Oscar, in stereo, tipo l'effetto specchio che va all'infinito, così raccontiamo di io cambio questi papà che cambiano i pannolini e poi lo cambiamo, vai, io cambio questa iniziativa di Onalim per sensibilizzare la presenza dei fasciatoi non sono dei bagni femminili ma anche dei bagni neutri e dei bagni degli uomini e noi ci mettiamo la faccia e anche come Superpapà Network appoggerà questa iniziativa, io cambio, hashtag io cambio, è sempre più papà che si sporcano le mani in tutti i sensi, adesso ci sporchiamo le mani, adesso ci dobbiamo sporcare veramente fisicamente le mani, a coppie lo facciamo, la prima volta facciamo a coppie, io faccio il motivatore, tu mi stai nel suo, tu mi stai nel suo, vuole stare nel suo, motiva perché stiamo facciamo più casino che altro, io invece ti voglio aiutare Silvio, tu la metti io ti rendo su, se hai bisogno di aiuto, che loro ci danno il via e poi partiamo, mani sul tavolo anche tu motivatore, pronti, scendete il via, vai, Andrea, ecco è partito bene, dai siamo in vantaggio, non ci stiamo giocando molto, grande, blocate il tempo, che forte, no ma devi alzare la mano, no, infatti, come il Ferrari, veramente otto secondi, numero uno, ragazzi numero uno sono fortissimo, il record era 9,50, 8,14, sono il papà più veloce, sei il Guinness World record, io mi seguirei su Instagram, io seguirei tutti, Fox Andrea sei su Instagram, contattino se avete i bambini che hanno fatto, andate ad Andrea Fox che vi cambia i notti io, quando è uscita fuori, portatelo, oh Andrea è grande, viene sul record, grazie mille che stai allenato Maranello, beh comunque l'ho motivato, se no ci metteva due ore, la strategia ha funzionato di più la loro effettivamente, anche perché, quei due secondi, quei due secondi l'abbiamo guadagnato con la motivazione, l'ho buttato per terra, tutto merito suo, sei primo però eravate in due, per cui poi bisogna, mi hanno fatto niente, mi hanno fatto niente, mi hanno fatto niente, mi hanno motivato, squalificato, potrebbe essere squalificato, oppure dovremmo fare poi lo spareggio, abbiamo vinto Rossetti, rossetto psicologo, io ho occhi chiusi, faccio più veloce di due, no stai scherzando, io direi che abbiamo vinto tutti, perché siamo dei super papà, grazie ancora, grazie Andrea, grazie mille, grazie Andre, siamo ammassati, super papà sì, no tranquillo, su quello stai sereno, dai che non l'hai messo malissimo, un po' a vita bassa tipo, sai cos'è stato, che l'hai fatto volare subito, no io l'ho fatto giù, ma tu, per passare, ma perché non devo passare, io l'ho sbagliato, l'unica cosa che, questa ha pianto, quindi per aiutare anche questo, l'ultima volta abbiamo scoperto che piangono, ma ridono anche, poi non si capisce come si fa a farle ridere, tipo, piangono sempre, poi una volta ha riso, con cevoli no, no, con fiducia pardiglia. Grazie a tutti, grazie a tutti.